La Commissione dell'Unione Europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l'Italia per i ritardi accumulati nella lotta alla Xilella, come aveva avvertito lunedì il Commissario alla Salute a Drucatis dopo l'incontro con il Ministro Martina. L'Esecutivo comunitario ha deciso di inviare una lettera di messa in mora alle autorità italiane in quanto è estremamente importante che l'Italia attui pienamente la decisione dell'Unione Europea e fermi l'avanzata della Xilella, ha detto un portavoce della Commissione. Lunedì, durante un incontro bilaterale dedicato alla questione Xilella, il Ministro Martino è stato informato dal Commissario a Drucatis che la Commissione non avrebbe avuto altra scelta se non aprire una procedura di infrazione, a meno che non fossero state prese azioni immediate da parte dell'Italia contro il batterio killer degli ulivi, ha ricordato il portavoce. L'Italia ha ora 60 giorni di tempo per rispondere alla lettera di messa in mora di Bruxelles.